Raggi fotonici Ciao a tutti, benvenuti alla festa globale, la quindicesima se non sbaglio. Noi siamo la compagnia Cechiccià, Samuele e Fiorella, facciamo queste discipline aeree, lavoriamo ultimamente con queste e cosa dire, perché lo facciamo, perché è una passione, perché è bello vivere così tra la gente in posti diversi, conoscere altre persone, altri mondi. Sentirsi a casa in ogni posto dove andiamo e veniamo accolti sempre dalla gente, anche da chi organizza, ed è bellissima questa cosa. Sentirsi a casa in ogni posto dove uno va, mai sentirsi straniero, mai sentirsi fuori luogo e comunque ci sentiamo che in questo modo abbiamo un contatto con la gente e possiamo dare quello che sentiamo. Ciao a tutti, io sono Aldo Betto, Savana Funk, noi siamo una band che arriva da Bologna, esistiamo da tre anni, abbiamo fatto tre dischi, siamo qui a festa Groval perché si è già venuti l'anno scorso, è stata una festa bellissima e quest'anno siamo qui di nuovo però con una band arricchita. Infatti questa sera abbiamo due ospiti straordinari, con noi al Goni e al Jambè abbiamo Califà Conè, che è musicista del Mali e alla voce c'è Kadikubali dal Burkina e Faso. Sì che sarà un concerto molto bello, improntato alla War Music dove mescoleremo il blues con la musica africana e tante altre cose, c'è ovviamente un gran funk. E presenteremo anche qualche brano del nostro disco nuovo che è appena uscito, intitolato Bruni Menù e ci vediamo presto in giro. Ricordatevi, Savana Funk. Noi siamo Quetzalcoatl, il gruppo del Messico, facciamo percussioni e fuoco, presentiamo un spettacolo di percussione e fuoco e facciamo un rituale allo spirito del fuoco. La credenza che c'era prima nel Mexico, negli Astechi, utilizziamo un po' di strumenti antichi da noi come la conchiglia, ocarina, huehuet, il teponastle che sono strumenti messicani. Grazie a tutti.